Fine del precariato per 233 dipendenti della ASL di Lecce che dal 1 dicembre verranno stabilizzati con contratti a tempo indeterminato. Si tratta di 14 dirigenti medici, 10 dirigenti biologi, 2 dirigenti tecnico-alimentari, un dirigente amministrativo, 123 infermieri, 14 ostetriche, 17 tecnici di radiologia, un tecnico della prevenzione, un logopedista, 5 fisioterapisti, 17 collaboratori amministrativi, 2 collaboratori tecnico-ambientali, un giornalista, 19 autisti di ambulanza, 5 autisti ed un operatore tecnico specializzato. La stabilizzazione di questi 233 dipendenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge di bilancio nazionale del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni, è stata decisa dalla direzione strategica della ASL sulla base delle indicazioni della Regione Puglia. Gli operatori in possesso dei requisiti, ma al momento non in servizio, verranno stabilizzati con un successivo provvedimento.